ok sta andando e la location è un po cambiata la telecamera pure però devo farlo così insomma questo video siamo qua per il nuovo unboxing della nuova scatola del nuovo pacco che mi hanno inviato dalla Gillette come tester ovviamente la prima i primi 25 rasoi sono stati tutti consegnati tutti con ottimi risultati il rasoio è veramente un ottimo rasoio e non lo dico solo io ma anche tutti i miei amici colleghi compagni eccetera che lo hanno provato e adesso dovrebbero essere arrivate al 10 infatti lo starter kit aggiuntivo Gillette è rimasta molto soddisfatta di come si sono svolte queste prime settimane del nostro progetto per questo motivo ha deciso di consegnarle consegnare ad ogni tester membro del team dei rasoi aggiuntivi in questa maniera puoi fare passaprola ancora più con più persone bene e rendere felice altri amici e conoscenti ma appena riceverai tutti i kit scatto una foto inviare se volto va bene faccio vedere eccoli qua dieci rasoi altri dieci rasoi 3 4 5 6 7 8 9 e 10 niente quindi vabbè non trovo ci fosse molta più roba comunque va bene no i dieci rasoi poi tanto le varie i vari dei supporti poi verranno fatti stampati verranno stampati da internet io se siete interessati a dei rasoi contattatemi e cercherò di mandarli se siete delle zone di piombino pisa massimo sarebbe meglio se no vediamo di organizzarsi e ve le possono andare inviare in qualche modo e niente a questo punto io vi lascio e alla prossima ciao